buonasera a tutti l'incontro di questa sera apre la decima edizione del festival musica sibri quindi per noi quest'anno è un traguardo molto importante chi di voi ci ha seguito negli anni precedenti sa che questo festival è incentrato sulla musica antica e che propone degli eventi prevalentemente di natura concertistica nei territori più suggestivi da un punto di vista artistico ed architettonico del territorio del seprio tante volte ci è capitato di sentirci chiedere dal pubblico che interveniva nelle diverse occasioni come mai la scelta di questo titolo musica sibri che cosa significa significa semplicemente musica del seprio allora partiamo magari proprio parlando di questo seprio spiegando che cos'è a chi magari non lo sapesse si tratta di una regione che storicamente si andava a collocare in un'area che equivale ad una parte delle attuali province di como di varese di milano si trattava di un contado e oggi ci sono molte testimonianze artistiche anche architettoniche di un certo pregio basti pensare ad esempio all'area archeologica di castelseprio ma è solo uno degli esempi ecco naturalmente musica del seprio non significa musica composta a livello locale ma il richiamo vuole essere quello alla vuole essere al fatto che si vada ad eseguire musica nel territorio del seprio avvalendosi però anche della collaborazione di formazioni esterne ma soprattutto eseguendo capolavori di compositori che sono stati attivi in tutta italia e in tutta europa ecco come dicevo prima quest'anno siamo alla decima edizione nel corso delle edizioni passate abbiamo avuto grandi soddisfazioni la possibilità innanzitutto di collaborare con tante realtà quindi oltre alla nostra l'ansambla di residenza che è l'ansambla i solisti ambrosiani abbiamo ospitato diverse formazioni ad esempio musica perduta da perugia oppure l'ansambla terre d'otranto l'ansambla l'archicembolo e molte altre realtà è stata un'occasione quindi di scambio di crescita reciproca e la diciamo così il riscontro della manifestazione si è avuto anche in una fitta adesione da parte del pubblico e anche in alcuni prestigiosi riconoscimenti fra cui il patrocinio del ministero per i beni culturali del ministero dell'interno diverse volte la medaglia dell'allora presidente della repubblica giorgio napolitano l'adesione presidenziale quindi diciamo che negli anni abbiamo avuto molti incoraggiamenti ecco non solo da parte delle amministrazioni locali che hanno spesso sostenuto i nostri eventi sia ospitandoli in sedi adatte sia intervenendo economicamente ma anche appunto nei termini di importanti patrocini per quello che riguarda l'impianto della manifestazione come dicevo prima tutti gli anni agli eventi concertistici abbiniamo anche degli eventi culturali più ad ampio spettro proprio per creare un interesse a tutto tondo intorno alla musica e all'arte del passato ad esempio ci sono state mostre di fotografia mostre d'arte quindi mostre di pittura escursioni nei territori del seprio abbinate ai concerti e quest'anno abbiamo pensato di arricchire l'offerta con questi incontri in streaming questi incontri sono volti sia a presentare la nostra attività quindi a farci conoscere un pochino meglio dal nostro pubblico questo anche in risposta ad alcune richieste proprio che ci sono arrivate e poi anche perché no a fare qualche chiacchierata su dei compositori o sui progetti che abbiamo in l'incontro di questa sera è intitolato il gran teatro del mondo allora vediamo perché questo titolo è un titolo che non abbiamo inventato noi ma che abbiamo ripreso dal poeta spagnolo calderon della barca quindi bisognerebbe in realtà far riferimento al titolo originale della sua opera che era il gran teatro del mondo si tratta di un un'espressione molto adatta ad esprimere lo spirito del barocco questa questa opera di questo poeta va in scena nel 1645 e si tratta di una rappresentazione teatrale allegorica in questa rappresentazione possiamo dire che abbiamo una sorta di grande affresco dell'epoca barocca una rappresentazione cui calza alla perfezione quello che l'antico topos della vita come una grande messa in scena nell'opera di calderon della barca abbiamo diciamo da parte degli uomini una sorta di interpretazione gli uomini agiscono come degli attori di fronte a dio padre alla sua corte celeste quindi lo spettacolo che rappresentano l'esistenza e il messaggio che ne arriva è abbastanza evidente quindi l'autore ci dice che il mondo è un grande palcoscenico sul quale ognuno di noi recita una parte ecco poi ovviamente si può essere o meno d'accordo con questa visione della realtà ma sicuramente possiamo dire che il teatro del mondo è una sorta di grande metafora dell'arte barocca il barocco è un periodo molto complesso molto ricco da un punto di vista artistico letterario e anche musicale in musica in particolare si va ad abbracciare una un'epoca che include quasi 150 anni di storia dall'inizio del 1600 fino al 1750 e tutto questo periodo è caratterizzato da un sentimento del forte contrasto fra l'essere e l'apparire fra il fasto e l'ascesi quindi è proprio un gioco degli opposti con dei chiaroscuri molto spiccati non proprio solo i chiaroscuri della pittura dell'arte figurativa ma proprio verrebbe da dire una sorta di chiaroscuro esistenziale ecco quindi possiamo dire che in quest'epoca in cui abbiamo anche una società continuamente lacerata da conflitti sociali guerre lotte di religione l'arte va proprio a rappresentare questo dualismo fra quello che è interiore e quello che è esteriore anche sempre con l'intento di meravigliare da un lato lo spettatore farlo stupire e al tempo stesso portarlo sicuramente a riflettere ecco tutte queste istanze queste caratteristiche dell'arte barocca si ritrovano molto anche nel mondo moderno quindi non è a mio avviso un caso se oggi l'arte barocca anche la musica barocca già in realtà da diversi decenni riscuote sempre più interesse proprio possiamo dire che quelle che erano le esigenze dell'epoca ancora esistono e tante domande sono rimaste forse ancora senza risposta ecco naturalmente all'epoca come anche oggi non è sempre possibile pensare di allontanare le avversità dalla vita quotidiana ecco che quindi l'arte può costituire anche un rifugio o può offrire delle come dire dei rivoli entro i quali collocare una riflessione anche più profonda e quindi abbiamo tanti risvolti dalla devozione alla riflessione ad esempio sulla caducità della vita non è un caso se in epoca barocca abbiamo tante nature morte in cui ritorna molto di frequente anche questo memento mori questo ricordati che devi morire che diventa quasi una sorta di leitmotiv quindi di motivo conduttore che appunto ci porta a riflettere su questa società turbata dalle inquietudini dell'esistenza ecco il bello dell'arte e della musica sta sicuramente nel fatto di riuscire poi a esprimere questo tormento facendolo diventare un capolavoro quindi trasformandolo sublimandolo in una forma di espressione che trasfigura quasi il dolore se non in piacere quantomeno in una dimensione di maggiore leggerezza o perché no anche di profonda riflessione ecco quindi possiamo dire tornando alle parole di Calderon che l'espressione il gran teatro del mondo è proprio una sorta di sintesi dello spirito dell'epoca barocca perché che cosa c'è che cosa ci può essere di più vasto ricco e contraddittorio del mondo intero quindi il barocco è proprio un'arte che abbraccia l'esistenza a tutto tondo e il teatro è sicuramente il luogo più adatto a rappresentare la complessità del mondo quindi con la sua capacità di spaziare fra la commedia e la tragedia fra la farsa e il dramma liturgico lo sfarzo e la miseria e non è un caso che l'opera musicale ad esempio quello che nei secoli successivi verrà chiamato poi melodramma nasca proprio in quest'epoca ecco sul termine barocco si può aggiungere sempre rimanendo diciamo in questo momento introduttivo su quella che l'arte barocca in generale poi arriveremo un pochino più nel dettaglio agli aspetti musicali ecco sul concetto di barocco vale la pena di ricordare che il termine stesso già in genera una riflessione il vocabolo proprio barocco come anche gotico manierismo nasce paradossalmente con un intento se non proprio dispregiativo ma ecco diciamo che si avvicina molto all'intento di prendere un po' le distanze da un'arte che veniva percepita da chi è arrivato dopo come un'arte artificiosa sfarzosa in modo vuoto eccessivamente ricercato quindi barocco significava proprio anche irregolare bizzarro confuso ecco quindi così come anche il termine gotico il termine manierismo parte come una sorta di etichetta che quasi va a bollare un'epoca come un qualche cosa di superato il barocco invece dimostrerà poi sia con la ripresa in epoca romantica ma anche con la sua grande attualità di avere in realtà una ben altra profondità e tante risorse espressive ecco invece l'estetica del settecento quasi ridicolizzava il barocco quindi andandolo a ingabbiare in una definizione sicuramente restrittiva che lo voleva individuare come uno stile ampolloso e addirittura ridicolo ecco veniamo adesso a parlare di alcune delle caratteristiche della musica barocca ecco ovviamente l'incontro di stasera come anche quelli che faremo in seguito non ha la pretesa di esaurire gli argomenti che proponiamo più che altro diciamo di creare un interesse di stuzzicare perché no anche poi la voglia magari di approfondire queste cose con percorsi anche individuali quindi sulla musica barocca diremo qualcosa ma veramente si potrebbe parlarne per giorni interi ecco possiamo cominciare col dire che nel barocco nel periodo barocco la musica diventa inizia a diventare un fatto di costume quindi non è più solo uno status symbol basti pensare al fatto che ad esempio il re sole era un bravo ballerino o federico il secondo era un ottimo flautista anche un discreto compositore ma che appunto al di là di quello che poteva essere la passione e l'attenzione per la musica che c'era nelle gerarchie più alte negli strati più alti della società abbiamo a partire dal 600 con l'evoluzione ad esempio della tecnica di costruzione degli strumenti la sempre maggiore diffusione della carta stampata più in generale la crescita a livello sociale abbiamo sempre più fenomeno per il quale la musica comincia a permeare la società a diffondersi chiaramente non dobbiamo pensare ad una diffusione di massa come quella che avremo nei secoli successivi ma rispetto comunque a quanto avveniva nel rinascimento cominciamo ad avere un incremento piuttosto consistente della diffusione della musica sia per quanto riguarda un approccio attivo quindi più persone hanno la possibilità di accostarsi allo studio di uno strumento ma soprattutto anche a livello di fruizione è proprio nel barocco che avremo ad esempio la nascita dell'opera la prima destinata ad un pubblico aristocratico ma poi già a partire dal 1637 con una prima rappresentazione al teatro san cassiano di venezia anche per un pubblico a pagamento ribadisco il fatto che ovviamente non dobbiamo pensare al popolano che può andare a teatro si tratta sempre di un pubblico ristretto però rispetto all'epoca precedente si amplia sicuramente la platea di chi si avvicina alla musica ecco iniziano a diffondersi in epoca barocca ad esempio anche i conservatori anche questi non vanno intesi alla maniera moderna quindi in passato i conservatori non erano degli istituti dove come oggi si vanno a formare gli studenti per acquisire un'abilità di tipo professionale in uno strumento e farne poi anche un domani un lavoro una professione i conservatori nascono in realtà in modo molto bello da una da un progetto che possiamo ricondurre a un discorso di inclusione sociale sostanzialmente nascono come orfanotrofi e in questi istituti dove trovavano ospitalità orfani o comunque figli illegittimi quindi che le famiglie non volevano riconoscere spesso abbiamo compositori che istruiscono i ragazzi e le ragazze nella musica un esempio celebre è quello degli ospedali della Pietà Veneziani l'ospedale della Pietà in cui Antonio Vivaldi prestò servizio per parecchi anni peraltro portando anche il livello delle cosiddette figlie di coro ad un livello veramente notevole quindi anche ad un successo che ben presto si è stese insomma il cui eco si è stese ben oltre la città di Venezia ma ne abbiamo poi appunto tanti altri esempi ecco quindi grazie poi come si diceva anche poco fa alla sempre crescente diffusione della carta stampata insomma anche i metodi didattici ad esempio il repertorio possono trovare una sempre crescente diffusione anche alcuni strumenti musicali basti pensare ad esempio al liuto, la tiorba che vanno ad accompagnare la voce che comincia ad avere un trattamento diverso rispetto a quello del Rinascimento quindi la monodia accompagnata si emancipa dalla linea del basso ecco dicevo anche questi strumenti musicali trovano un sempre maggior impiego quindi è proprio un'epoca molto ricca un altro aspetto molto caratteristico della musica barocca e che la imparenta anche ad altre forme d'arte il collegamento più diretto viene con la commedia dell'arte è lo spazio lasciato all'improvvisazione ecco per improvvisazione ovviamente non bisogna pensare che l'artista si metta lì ad inventare qualcosa di sana pianta o men che meno che sotto chissà quale ispirazione inventi così da zero l'improvvisazione si basa comunque su delle tecniche quindi in epoca barocca in modo analogo a quanto avveniva appunto già nel teatro con la commedia dell'arte nella quale gli attori partono da un canovaccio quindi partono da una trama da una sorta di scheletro e poi improvvisano anche sulla base di quella che può essere ad esempio la risposta del pubblico ecco in modo analogo anche nella musica si diffonde un tipo di prassi esecutiva che lascia delle libertà all'esecutore quindi ad esempio il cosiddetto basso continuo prevede il fatto che si parta comunque da uno scheletro armonico predefinito in qualche caso i compositori lasciano delle sigle dei numeri qualcosa di equivalente per chi non è addetto ai lavori insomma qualcosa di equivalente a quelle che possono essere oggi le sigle degli accordi che si lasciano sui canzonieri o su certi arrangiamenti di musica leggera quindi anche nella musica classica c'era una sorta di stenografia musicale si scriveva solo la linea del basso quindi una nota alla volta per lo strumento più grave che poteva essere un violoncello un violone una viola da gamba eccetera e poi gli strumenti che avevano la possibilità di eseguire più note contemporaneamente quindi la tastiera oppure l'arciliuto la tiorba eccetera riempivano con gli accordi con le armonie ecco questi accordi potevano essere o meno indicati in partitura ma anche qualora fossero indicati in modo dettagliato ovviamente un accordo può essere realizzato poi in tanti modi in tanti rivolti può essere arpeggiato può essere arricchito con delle note di collegamento fra un'armonia e l'altra quindi in questa epoca già solo l'aspetto del basso continuo offre molte variabili quindi a parità di brano musicale due continuisti diversi eseguiranno magari anche due cose molto diverse tra di loro anche per quanto riguarda gli strumenti di natura melodica come possono essere il violino la voce il flauto viene dato un grande spazio all'ornamentazione quindi gli abbellimenti anche lì seguono talvolta dei cliché delle indicazioni la trattatistica anche si sofferma su questi aspetti ma possono essere liberamente riadattati o comunque selezionati diciamo così dagli esecutori un bravo esecutore allora come oggi mantiene anche la freschezza improvvisativa nel momento in cui porta un pezzo al pubblico chiaramente si fanno delle prove prima si studia magari si scrivono delle variazioni ma uno stesso interprete non eseguirà mai lo stesso pezzo due volte esattamente nella stessa maniera questo vale chiaramente anche per la musica romantica o per quella moderna laddove non si aggiunge in genere nulla quello che scrive il compositore ma a maggior ragione capite bene che vale ancora di più se oltre ad una variabilità legata al momento all'istinto al fraseggio aggiungiamo anche la possibilità di aggiungere togliere note proprio inserendo delle ornamentazioni o lavorando magari per uno strumento ad arco ad esempio sui colpi d'arco o per la voce su altri espedienti ecco quindi sicuramente quella barocca è un'epoca molto 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 ricca anche per quanto riguarda proprio la creatività dell'interprete che si trova davanti alla possibilità di lasciare un po' la propria firma nel momento in cui esegue un lavoro anche scritto da altri ecco un altro aspetto importante della musica barocca non solo di quella perché in realtà esisteva già prima ma esplode in quest'epoca riguarda la musica descrittiva allora c'erano già quindi per musica descrittiva intendiamo delle composizioni che si pongono l'obiettivo di andare a rievocare delle immagini precise magari un contesto campestre oppure dei fenomeni atmosferici quindi tramite i suoni cerchiamo di calare l'ascoltatore nel bel mezzo di una suggestione che diventi quasi visiva l'esempio più celebre sono le quattro stagioni di Antonio Vivaldi ma ci sono veramente tantissimi esempi ecco la musica descrittiva esisteva già ovviamente anche nei secoli passati basti pensare ad esempio alle cacce medievali ma in epoca barocca riceve un notevole impulso sempre perché si torna al discorso del grande teatro del mondo di questo rapporto fra la finzione e la realtà l'arte quindi come specchio della vita e la vita che cerca di diventare arte un tema che ritorna anche in altre epoche ma che nell'epoca barocca viene proprio vissuto a 360 gradi questo ovviamente porta ad uno sviluppo ulteriore delle possibilità tecniche degli strumenti quindi penso ad esempio al violino quando appunto deve imitare il cinquettio degli uccelli o comunque delle altre così delle altre suggestioni a livello a livello imitativo anche magari ricorrendo ad esempio alla scordatura o comunque insomma in generale esplorando le potenzialità tecniche anche oltre a quello che era stato fatto in precedenza ecco passiamo adesso a parlare di alcuni problemi o comunque di alcune caratteristiche specifiche della musica barocca quindi fino adesso abbiamo parlato del barocco in generale anche di alcuni aspetti che riguardano la sfera musicale ma sempre diciamo legati magari a dei fattori di costume o comunque in generale a quelle che sono le dinamiche che coinvolgono l'intera società ecco invece adesso ci addentriamo un pochino di più in quella che è proprio la musica anche per quanto riguarda alcuni aspetti storiografici e perché no un assaggio magari di alcune considerazioni di carattere un pochino più tecnico musicale ecco spero di riuscire a renderle in modo comprensibile anche per chi magari non è un addetto ai lavori ovviamente insomma darò sempre una panoramica un pochino sintetica ma sperando poi di creare una curiosità che invodi il nostro pubblico ad approfondire insomma questa questa conoscenza ecco partiamo dalla periodizzazione il barocco come dicevamo prima è un'epoca molto complessa è un periodo molto ricco e tradizionalmente gli storici della musica lo dividono lo suddividono in tre fasi come sempre quando la storiografia non solo quella musicale la storiografia in genere a distanza di tempo analizza un periodo mette diciamo così delle etichette delle definizioni è sicuramente un'operazione utile per comprendere alcuni aspetti dei periodi che si studiano non va ovviamente intesa in modo rigido ma questa è una considerazione insomma di buon senso che chiunque può fare quindi fermo restando che si tratta ovviamente di una semplificazione di una schematizzazione però può essere utile ripercorrerla insieme il primo barocco è quello che va dal 1600 al 1650 quindi in questa fase abbiamo innanzitutto ancora dei retaggi di caratteri rinascimentali proprio delle riminescenze che anche il non addetto ai lavori può cogliere in modo molto istintivo molto spontaneo semplicemente ascoltando dei brani di quell'epoca si coglie proprio nelle composizioni soprattutto quelle del primissimo 600 ancora un sapore rinascimentale nell'uso della modalità nelle strumentazioni che vengono richieste o ad esempio nel cosiddetto recitar cantando il recitar cantando era una tecnica di canto inventata possiamo dire brevettata verrebbe da dire ovviamente è una battuta insomma comunque teorizzata insomma e poi portata avanti dalla camerata De Bardi questa camerata fiorentina era un'accademia un cenacolo di intellettuali che si riunivano appunto a casa del conte De Bardi e volevano ricostruire nel loro intento quella che era stata l'antica tragedia greca nella consapevolezza che come ancora si studia insomma sui banchi di scuola la tragedia greca non era letta ma veniva cantata proprio dagli aedi e quindi nel rinascimento ci si era come si sa insomma ci si era rivolti all'antichità e anche in ambito musicale ancora ben oltre quella che viene convenzionalmente considerata la soglia del rinascimento si guardava con interesse alla letteratura antica e si desiderava ricreare un qualcosa di simile al teatro dell'antichità quindi recitar cantando è una sorta di tecnica di esecuzione vocale che si appoggia proprio in modo molto molto aderente alla recitazione e da lì verrà poi il recitativo dell'opera quindi possiamo dire che è uno stile di esecuzione intermedio fra il canto e la recitazione sicuramente molto vicino al canto nella misura in cui nel recitar cantando noi abbiamo proprio l'indicazione delle note precise quindi è canto tutti gli effetti ma la cosa proprio a cui l'interprete deve fare molta attenzione è il senso di quello che canta l'accento della parola quindi non ci deve essere rigidità ma ci deve essere una scorrevolezza una fluidità che plasma la musica in modo tale da proprio renderla aderente alla parola ecco poi un'altra sicuramente un'altra un altro aspetto degno di nota delle composizioni di questo periodo è il fatto che sempre nel repertorio vocale i testi delle arie ma anche delle canzoni delle ariette del repertorio che oggi riterremo magari meno impegnato e un pochino più di consumo spesso sono testi d'autore quindi abbiamo delle grandi firme Guarini Tasso Chiavrera che scrivono dei brani che vengono poi messi in musica dai loro contemporanei a volte sono nomi anche grossi come Claudio Monteverdi altre volte sono compositori minori ma il livello del testo poetico è veramente molto molto alto avremo poi anche in seguito dei letterati di spicco che si dedicheranno a scrivere libretti d'opera ma soprattutto nel primo barocco che a mio avviso poi è anche forse un'opinione personale ma mi pare che appunto i nomi in questione parlino da sé soprattutto nel primo barocco che abbiamo veramente dei letterati di spicco che producono dei testi che vengono poi messi in musica quindi la musica si appoggia in modo molto evidente su una base letteraria alta ecco nel barocco centrale poi dal 1650 al 1700 quindi questa è la fase che viene considerata al cuore dell'epoca barocca abbiamo lo sviluppo di alcune forme strumentali la suite ad esempio che è una raccolta di brani diciamo che ricalcano dei ritmi di danza stilizzati quindi pensati per l'ascolto non per il ballo quindi non dobbiamo pensare non so al ballo liscio ecco ma sono dei balli comunque molto eleganti e vengono appunto arrangiati diciamo così o per tastiera o anche per orchestra e raccolti in queste opere che sono in genere hanno un disegno unitario in genere sono pezzi tutti nella stessa tonalità contrastanti per andamento quindi uno veloce poi uno lento poi uno veloce poi uno lento e sono pensati appunto per essere proposti all'ascolto poi in ambito vocale abbiamo lo sviluppo soprattutto della cantata e del melodramma delle passioni degli oratori quindi abbiamo veramente un fiorire di forme molto articolate anche molto complesse come dicevo prima è un'epoca questa in cui la musica diventa anche proprio un po' un fatto di costume sicuramente anche sempre legata ad un discorso di committenza che va a celebrare se stessa in quello che propone quindi non è raro il caso del melodramma in cui dietro alla trama che si rifà i fasti dell'antichità chi lo compone va ovviamente ad omaggiare il committente sia esso un principe un imperatore eccetera ecco per quanto riguarda le forme una cosa che non ho detto prima ma che è importante nel primo barocco quindi nella prima fase quella fino al 1650 abbiamo una densa fioritura di forme che si appoggiano ad un basso il cosiddetto basso ostinato ossia per basso intendiamo lo strumento che esegue la parte più grave all'interno di un gruppo di strumenti oppure la mano sinistra quello che viene suonato dalla mano sinistra di uno strumento a tastiera ecco questa parte che è di sostegno a tutta la composizione che ha in genere forma di accompagnamento di supporto di base diciamo così può essere ostinato ossia può consistere in poche note in una formuletta in pochi accordi che vengono ripetuti ostinatamente in modo proprio ipnotico dall'inizio alla fine le forme su basso ostinato sono ad esempio la passacaglia la ciaccona quindi ad esempio il cosiddetto tetracordo discendente nel basso di passacaglia oppure uno schema fisso di accordi nella ciaccona vengono riproposti e questo ovviamente questa base diciamo un po' standard che viene ripetuta da modo allo strumento solista violino la voce il flauto o quello che il compositore desidera di sviluppare una melodia invece varia anche introducendo le famose improvvisazioni di cui si diceva prima ecco questa tecnica è molto importante perché ci rimanda immediatamente a quello che succede nel novecento che ha ripreso tanto dalla musica barocca in generale dalla musica del passato ma questa questa prassi di variare partendo da un basso fisso ritorna anche nella musica anche leggera del novecento ecco poi il tardo barocco invece l'ultimo periodo che convenzionalmente si fa andare dal 1700 al 1750 vede ovviamente il perfezionamento di forme che già esistevano quindi la sonata al concerto l'opera lirica che fra l'altro diciamo si sviluppa sul doppio filone dell'opera serie di quella buffa sicuramente abbiamo uno sviluppo anche della vocalità nella direzione di un'impostazione della voce un pochino più robusta un po' più importante sulla corsa del suono ad esempio cambia il modo di eseguire alcuni abbellimenti il trillo ad esempio non è più il trillo di gorgia del primo barocco che richiede una gola molto duttile molto leggera ma il trillo che già va verso quello che avremo nei secoli successivi quindi con l'alternanza di due note adesso poi vabbè addentrarsi diciamo così in dettagli tecnici in un discorso a parole diventa magari poco efficace ecco però abbiamo sicuramente appunto lo sviluppo di una vocalità più importante più impostata diremmo oggi anche se certamente non ancora diciamo così non ancora la vocalità lirica non dobbiamo pensare a quella che sarà la vocalità di fine ottocento rimane poi sempre ovviamente valido il discorso che per quanto concerne la musica di questi secoli non abbiamo testimonianze dirette non abbiamo fonti di prima mano per quanto concerne le registrazioni in quanto non esistevano perciò sono ipotesi quelle che riportiamo ma sono verosimili nella misura in cui sono comunque anche degli aspetti su cui la trattatistica dell'epoca anche si sofferma quindi sono delle ricostruzioni che vengono fatte che oggi vengono considerate attendibili quindi quasi certamente in epoca barocca la vocalità era più leggera decisamente rispetto a quella lirica anche perché era richiesta una grande agilità e ci sono delle figurazioni ci sono delle cose che tecnicamente non sono così agevoli da ottenere con un tipo di impostazione differente ecco tante sarebbero le cose da aggiungere mi soffermo ancora su qualche aspetto uno riguarda la notazione quindi durante l'epoca barocca abbiamo ancora nel primo periodo la diffusione della notazione quadrata quindi di una grafia diversa da quella moderna e un uso maggiore delle note bianche rispetto a quelle nere nel barocco invece centrale nel tardo barocco abbiamo via via sempre più ricorso alla notazione tonda ovviamente poi con grandi differenze a livello locale perché il mondo dell'epoca non era ovviamente interconnesso come quello di oggi le comunicazioni erano più lente e quindi si potevano avere anche delle grosse differenze da una località all'altra il che costituiva anche una grande ricchezza quindi oggi abbiamo il vantaggio di poterci informare rapidissimamente tramite il web rispetto a quello che succede dall'altra parte del pianeta o di poter subito ascoltare o eseguire una composizione nuova appena viene pubblicata all'epoca questo non era possibile ma l'altra faccia della medaglia in positivo era il fatto che questo ovviamente faceva da stimolo per una ricerca personale e ad ampio spettro in ogni località quindi ci si impiegriva forse di meno ecco naturalmente quando si studiano le opere di questi secoli è molto importante fare riferimento a delle edizioni attendibili quindi per chi è in grado ovviamente la cosa migliore è il ricorso al manoscritto o alla prima versione a stampa quindi quelle d'epoca oggi abbiamo la fortuna di avere anche tanti fondi digitalizzati tante biblioteche mettono a disposizione nell'internet culturale molti fondi digitalizzati e questi sono una grandissima risorsa oppure ci sono delle edizioni adesso ovviamente non non posso far pubblicità ma insomma chi è un addetto ai lavori sa che ci sono delle case editrici che hanno particolarmente a cuore la riproposizione di partiture del passato o in facsimile o comunque con delle trascrizioni molto attente altre edizioni sono invece magari più o meno ampiamente rimaneggiate si va ovviamente da edizioni critiche di pregio ad altre che sono magari un pochino più discutibili anche semplicemente perché sono state magari realizzate in decenni o in periodi insomma in cui non c'era ancora la conoscenza approfondita che abbiamo oggi di alcuni aspetti ecco un altro aspetto della della musica barocca riguarda la trattatistica abbiamo già accennato prima la diffusione crescente della stampa ovviamente la stampa viene inventata nel 1453 ma è facile intuire che da quando viene inventata quando abbiamo realmente la diffusione anche della musica a stampa su grande su grande scala necessariamente insomma passa del tempo quindi possiamo dire che proprio nel 600 che si ha una vera e propria esplosione non solo della musica stampata ma anche della trattatistica un trattato è un testo che ha una finalità o didattica quindi di insegnamento riferito proprio alla prassi strumentale all'epoca non c'erano i conservatori nel senso moderno del termine non c'erano le scuole dell'obbligo non c'erano ovviamente le scuole e accademie di musica in ogni paesino come abbiamo oggi non sempre era facile trovare un maestro di musica non tutti avevano magari la possibilità di andare a lezione per molto tempo i trattati in qualche modo supplivano a questa necessità dando delle indicazioni quindi servivano a così fornire agli esecutori un po' i trucchi del mestiere per noi oggi sono una risorsa preziosissima perché ci dicono tanto su come all'epoca si approcciava lo studio anche perché poi sarà una diciamo una prerogativa dell'ottocento la letteratura didattica ossia dei pezzi scritti proprio per impostare l'allievo passo per passo in epoca barocca abbiamo qualche esperimento lungimirante in materia basti pensare a Bach ai suoi notenbüchlein o alle invenzioni a due a tre voci ma anche lì oggi questi sono considerati dei pezzi di musica proprio da eseguire ma per didattica intesa proprio come composizione di studietti o di esercizi tecnici molto graduali e sistematici dobbiamo aspettare soprattutto l'ottocento nel 600 c'era qualcosa ma prevalentemente si studiava il repertorio si faceva la cosiddetta tecnica pura scale, arpeggi e poi o nel caso della voce ad esempio il trillo gli abbellimenti insomma si studiavano alcuni aspetti tecnici e poi si affrontava il repertorio i trattati facevano un po' da guida nell'affrontare il repertorio nel risolvere alcuni aspetti che riguardano l'esecuzione degli abbellimenti o dell'improvvisazione e accanto ai trattati destinati ai musicisti abbiamo anche quelli destinati ai costruttori di strumenti musicali quindi trattati di luteria ecco da quello che abbiamo detto possiamo facilmente vincere che anche la prassi esecutiva dell'epoca era molto diversa da quella odierna molto è stato scritto in proposito abbiamo tanta anche tante registrazioni discografiche che oggi hanno un ampio mercato proprio perché si cerca di riproporre la musica dell'epoca con dei criteri storicamente informati quindi attendibili naturalmente se sempre nell'ambito delle ipotesi questo va da sé ma è anche il bello sicuramente della ricerca quindi tutta quella serie di aspetti ad esempio l'uso del vibrato che all'epoca c'era era un abbellimento ma non veniva usato dall'inizio alla fine ad esempio nell'impostazione della voce come avviene nel reportorio lirico oppure la presenza delle messe di voce il dosaggio diciamo così dei volumi le cadenze gli appellimenti tutte le parti di improvvisazione anche legate al basso continuo sono tutti aspetti che sicuramente diciamo costituiscono una sfida per l'esecutore di oggi e possono essere anche possono offrire delle suggestioni al pubblico nella misura in cui l'ascoltatore può apprezzare una stessa composizione registrata o eseguita dal vivo da più interpreti e ogni volta scoprire qualche cosa di diverso quindi anche in questo la questa moltiplicazione di prospettive e questa dicotomia fra quello che è vero e quello che è illusorio rimane forse uno dei così degli aspetti ad oggi più belli e più concreti che l'arte barocca ancora ci lascia bene vi ringraziamo per essere stati con noi speriamo che questo streaming vi sia piaciuto vi abbia accompagnati insomma nella scoperta di qualcosa di nuovo e vi invitiamo a continuare a seguire i nostri appuntamenti arrivederci e buon proseguimento di serata